Dovrei essere a fuoco, se non sono a fuoco prendetevela con la mia macchina fotografica perché non so più cosa fare Forse ce l'abbiamo fatta, oggi siamo qui perché volevo registrare il wrap up degli ultimi due mesi Se sentite un frrrrr in sottofondo è il ventilatore Ragazzi ho chiuso il balcone perché fuori stanno facendo una sagra, non lo so di cosa, gridano come pazzi Quindi io ho preferito morire e farmi portare via da correnti artificiali La prossima volta che nella mia testa balena l'idea malsana di unire due mesi di lettura in uno Voi dovete dirmi di no perché oggi ci troviamo con una pila grande così e mancano anche libri E quindi non riuscirò a parlare di tutta questa pila di libri altrimenti staremmo qui due ore e il video lo vedrei io assieme a mia madre Quindi direi di iniziare partendo da un libro che ho letto per un esame all'università Ma che vi voglio proporre perché secondo me è una lettura molto trasversale e interessante Nonostante si focalizzi su un concetto molto specifico Il coraggio della verità di Michel Foucault, uno dei più grandi pensatori del secolo appena passato Una serie di dialoghi e di lezioni portate al College de France da Michel Foucault intorno all'82 Questo volume si focalizza come vi dicevo sulla parresia ovvero sul parlar franco E sul modo in cui questa stessa pratica in realtà possa aiutare a governare meglio un paese Infatti questo volume si concentra sul ciclo della nascita e della decadenza della polis ateniese E' la democrazia che si è mantenuta per quei 150 anni più o meno ad Atene E che è stato un unicum nella storia fino ai tempi moderni Si focalizza anche molto sulle ragioni della sconfitta della polis ateniese Se ponendo come figura di transizione che è l'emblema appunto di questo decadimento Socrate Infatti molto importante secondo me la filosofia di Socrate all'interno di questo volume Perché l'approfondisce in modo assolutamente compiuto e greggio Michel Foucault fa un lavoro di analisi e di approfondimento che è veramente qualcosa di inimmaginabile Ma che si può aspettare da un filosofo del suo calibro Che insomma è difficile ancora ad oggi da trovare Con Socrate infatti grazie al suo modo di fare parresia Quindi grazie alla sua maieutica, ai dialoghi socratici che ci sono arrivati da Platone Si riesce a governare se stessi per poter governare gli altri Non vi dirò diciamo di più perché ovviamente come vi dicevo è un argomento comunque di nicchia Un argomento molto specifico che se vi interessa potete approfondire Vi ripeto è comunque un testo un po' accademico Ma siccome pubblicato dall'Universale Economica Feltrinelli Ad un prezzo più o meno basso rispetto a tutti gli altri volumi di Foucault Che sono pubblicati anche da case editrici che sono specializzate in saggi Quindi li trovate sicuramente a prezzi molto maggiorati Ve lo consiglio Se vi piace studiare l'epoca classica, la polisateniese, i filosofi Si approfondiscono anche i sofisti e i cinici Si parla anche dei parresiasti moderni Di coloro che possono essere definiti appunto come parresiasti E che rischiano la propria vita per dire ciò che realmente pensano Quindi secondo me è ancora interessante ed attuale per questa ragione Perché si riescono a scoprire molte particolarità delle epoche passate Che possono essere attualizzate a quella contemporanea Con questo concetto di parresia mi voglio legare ad un altro libro Ovvero Risposta su Orfilotea di Juan Enés de la Cruz Vi ho già parlato di questa scrittrice, di questa poetessa e drammaturga Di città del Messico che è vissuta intorno al 600 Perché mi leggo alla parresia? Perché mi leggo al concetto di polisateniese? Perché all'interno della democrazia di Atene Vi era una sorta di eguaglianza formale Che poneva tutti i cittadini Ovviamente maschi, i risidenti di Atene Che avessero ricevuto un'educazione militare Che non fossero schiavi, che non fossero donne Ovviamente tutti questi cittadini Potevano partecipare alla cosa pubblica Chi però si elevava in imprese e virtù Chi era diverso Chi tentava di esprimersi in modo singolare Veniva ostracizzato, veniva esiliato Perché si aveva paura che potesse tiranneggiare La democrazia di Atene era un pilastro fondamentale Che non doveva essere minacciato da nulla Anche se sappiamo che esistono delle personalità Dei geni Perché è quella la loro natura E la leggo in questo caso Proprio perché lei parla di se stessa Quale essere votato allo studio Costante e perenne C'è un amore per il sapere da parte di questa suora Che è imprescindibile dalla sua vita Il suo far rime concorre perfettamente Con i suoi bisogni primari Quali mangiare, bere, dormire Lei deve scrivere, deve studiare Perché le è necessario Ed è una cosa fenomenale Bellissima soprattutto in quegli anni Avere un documento di questo tipo Può essere utilizzato Perché ancora ad oggi Per molte ragazze in tantissime parti del mondo Non è possibile studiare, non è possibile votare Non è possibile esprimere la propria opinione E avere un documento, vi ripeto, di questa sorta È sicuramente indispensabile Quindi vi esorto assolutamente a leggerlo Di cosa tratta risposta a suor Filotea? È innanzitutto una lettera Una lettera di risposta non ad una suora Ma al suo vescovo Al vescovo di Juan Eines E ci racconta perfettamente Le scelte che ha fatto nella sua vita Quella di farsi monaca Perché innanzitutto voleva studiare E solo grazie alla clausura Poteva farlo E talvolta le era negato anche in quel caso Perché quando si trovava davanti a matri superiore O ad altre suore Che non vedevano di buon occhio Questo suo costante Questa sua costante voglia di sapere Allora veniva reclusa in una stanza Le venivano tolti i volumi E i fogli di carta In secondo luogo In questa lettera Continua a dare le sue ragioni Contro il principio Il dogma di quegli anni Che era Muliers in ecclesia tacent Le donne in chiesa devono tacere Che in un certo senso Significa che le donne Non devono poter parlare Delle sacre scritture Nonostante esse siano Monache, suore O comunque di ordini Ecclesiastici Qua Nainez si scaglia Contro questo dogma Ma lo butta giù completamente E in effetti Tutta la sua analisi critica Viene pubblicata Proprio da questo vescovo Che scatenerà Una polemica impressionante Soprattutto Da parte di quegli ecclesiastici Che stavano Diciamo Ai livelli superiori Vi esorto Tra l'altro A leggere Non solo Questo tipo di documento Che riguarda più Il pensiero Dell'autrice Ma la parte artistica Di Qua Nainez Cioè la parte più poetica Lei era bravissima A far rime Le veniva naturale E soprattutto Le sue commedie Erano qualcosa di incredibile Lei veniva chiamata Molto spesso Dai regnanti Di Città del Messico Perché le scrivessero poesie Perché le mettessero in scena Le sue commedie Era qualcosa di Assolutamente Sui generis In quegli anni Non era Una monaca canonica Assolutamente Ve la consiglio Inoltre Si percepisce Molto Il suo Sapere La sua saggezza Nonostante fosse Di età Abbastanza giovane Perché Aveva capito Una cosa fondamentale Cioè L'interdisciplinarietà La scienza La medicina Non potevano curare Completamente Un malato Se non avevano accanto Qualcuno Che aiutasse La persona Nello spirito Che sia Un confessore Che sia un prete Che sia uno psicologo Che sia un padre spirituale Anche oggi È importante L'aveva capito Skuana Ines Nel 600 È necessario Fare rete Anche Tra le scienze Tra le arti Letterarie Tra le materie Umanistiche Le discipline Scientifiche In realtà Per quanto mi riguarda Non è necessario Capire quale sia Più importante Cioè la medicina Perché cura le persone O la letteratura La psicologia Perché cura l'anima O la sociologia Perché studia Fenomeni Di natura sociale Sono delle materie Delle discipline Che si occupano Di fenomeni diversi E quindi Per quanto mi riguarda È necessario Che ci si confronti E forse un pochino La situazione Sta cambiando Si è capito Che si ha necessità Di condividere Il sapere E non di chiudersi In compartimenti stagni Questo Ho dimenticato di dirlo È edito da Sellerio Editore E non so dirvi il prezzo Perché costava 20.000 lire Io l'ho preso Al mercatino Dell'usato A questo volume Mi accodo Con altri due Che ho comunque Apprezzato Il primo è il professore Di Charlotte Bronte È stato il primo volume Scritto dall'autrice Rifiutato da Tutte le case Editrici Esistenti in Inghilterra Probabilmente È pubblicato Postumo Dopo la morte Della scrittrice È un volume Al quale La Bronte Terrà Veramente tantissimo E lo definisce Quasi Come La massima Espressione Della grandezza Della sua scrittura Mi è risultato interessante Perché È l'unico A quanto so Che prende Come protagonista Come punto di vista Quello Maschile Infatti Tutte le altre opere La Bronte Avranno come Come personaggi Principali Delle donne E dei racconti Di donne Quindi Secondo me È anche interessante Scoprire questo lato Dell'autrice Che è sicuramente Diverso dagli altri E in secondo luogo Non prende in considerazione Una vita Splendente Una vita unica Prende In esame Una vita comune La vita In questo caso Di un professore Che durante Tutta la sua esistenza Non avrà Diciamo Aiuti Da parte Né del destino Né della comunità In cui vivrà È una vita Quindi quotidiana Una vita Qualsiasi Che viene Esplicitata Molto bene Grazie Uno Alla scrittura Dell'autrice Che è veramente Molto elegante E delicata Mi è piaciuta Tanto Forse la scrittura Della bronte Una delle cose Che ho apprezzato Di più Di questo volume E in secondo luogo Perché vengono Esplicati Tutti i pensieri Del ragazzo Del protagonista Che sono pensieri Non di natura Per forza positiva Anzi Ne mettono in evidenza Tutte le viltà Pensieri Che tutti quanti Noi possiamo avere Di cui molto spesso Ci vergogniamo Può essere che Questi tipi di pensieri Siano stati inseriti Perché La bronte Voleva dare Uno schiaffo morale A tutte le sue lettrici Per far intendere Insomma Che ci si dovesse Svegliare In quegli anni Intorno all'ottocento Ricordiamo Che le suffragette Iniziavano a nascere Iniziavano A esplodere O in secondo luogo Si può contestualizzare Anche perché Una parte fondamentale Del romanzo È lasciata Alla futura Compagna Di questo professore Che in tutta la sua vita Vorrà andare a scuola Imparare Sempre Delle novità È una persona sveglia È una persona Intelligentissima E lavorerà Nonostante Sarà accompagnata Per tutta la vita Da quest'uomo Che aveva comunque Un impiego redditizio Lei Ha voluto Continuare a lavorare Ha perseverato In questa sua scelta Cosa che ragazze E lo dico alle ragazze Ma ovviamente anche ai ragazzi Prendete nota Molto spesso Nei paesi Nel sud Italia Non ho idea Se anche al nord Sia così Le ragazze Stanno in casa Le ragazze Non vogliono Non vogliono Magari Uno Prendersi la patente Per andare in giro Perché c'è qualcuno Che le accompagna Due Non lavorano Perché c'è qualcuno Che le mantiene E non è giusto Non è giusto E molto spesso Viene imposto Dalle famiglie Perché io mi rendo conto Di vivere in una bolla Di vetro Perché ho alle spalle Una famiglia Splendida Che mi ha sempre Spinta a fare Tanto E per me Questa è la normalità Però per tanti altri Non è così Per tanti altri L'obiettivo È essere mantenuti E non è Non è una cosa Che io posso ritenere Corretta Corretta per se stessi Corretta per gli altri Quindi è un libro Che vi consiglio Vi consiglio Di approfondire Di vedere Sotto le righe Di non prendere Essenzialmente Le parole Che dice il professore Come critica Alla donna Come messa In secondo luogo Della donna Ma prenderlo Come spunto Per poter fare meglio Quindi criticarlo Sì Ma per poter Svegliarsi Secondo me Era forse Questa l'intenzione Della Bronte Comunque Questo libro Edito da Fazzi La Fazzi Tra l'altro Ha acquistato I diritti Di Jane Eyre Quindi io voglio Comprare assolutamente Quell'edizione Non appena uscirà Al prezzo Di 18 euro Questo qui Al momento Però se non sbaglio È finito Fuori produzione Non si trova più O qualche copia La potete trovare Ancora al libraccio A prezzi Veramente stracciati Io lo pagai Intorno agli 8 euro Ma qualche tempo dopo Si abbassò ancora Addirittura il prezzo Quindi andatelo a cercare L'altro libro Che si staglia Su questa scia Nonostante abbia Uno Una natura Differente Due Un luogo Assolutamente Lontano Dall'Inghilterra È la lettera scarlata Di Nathaniel Hawthorne Autore statunitense Uno dei più importanti Uno dei padri Del rinascimento Americano Vissuto nella prima metà Dell'ottocento E morto intorno Al 1867 Se non sbaglio Ha scritto tantissimo Oltre alla lettera scarlata Tra cui I racconti Che hanno un gusto Un pochino Gotico E macabro Che sono delle caratteristiche Che in realtà Si denotano Anche in questo tipo Di narrazione Che è tra virgolette Un po' Sadica E grottesca Ringrazio In questa sede Marika di Marist Reading Perché oltre ad aver parlato Di questo libro Di cui ovviamente Vi invito a vedere Recensioni e consigli Di lettura Ha anche mostrato Sui suoi canali social I racconti Di Nathaniel Hawthorne E in questo modo Mi ha attirato tantissimo A leggere Anche quei testi lì Quindi non vedo l'ora Di recuperarli Ritornando alla lettera scarlata Di cosa parla Questo volume Innanzitutto Parla di Sentenza sociale Parla di Dignità umana E di forza Anche in questo caso Parliamo di donne E il personaggio Principale Che pone le fondamenta Per questo romanzo È Esther Pryn Ragazza inglese Che si reca Nel New England Quindi nelle nuove Americhe Ad aspettare Il marito Che verrà Per un futuro migliore Per vivere una vita Diversa Lontana Dalla sua patria In questo frangente Incontra Un altro uomo E resta incinta Tra l'altro Dimenticatevi la storia Che vedrete nel film Perché non c'entra niente Il film è come se fosse un prequel Della vicenda Questo è tutto ciò che avviene dopo Ed è ancora più crudo Il film secondo me è troppo edulcorato Nonostante sia veramente splendido Resta incinta E quindi partorisce una bambina Per il reato di adulterio In quegli anni Intorno al Settecento In America Vi era la pena La sentenza di morte In realtà Siccome il marito Non si è mai presentato E quindi poteva essere deceduto Le viene imposta solo La sentenza di portare Una A di adulterina Per l'appunto Cucita Sul petto Delle sue vesti Per tutta la vita È un romanzo Assolutamente Incredibile Che Per mio gusto personale Parte come una bomba a mano Con la rappresentazione Di questa donna Forte Fiera Che esce dalla prigione Con in mano la sua bambina Ed è splendente Che mette a tacere Tutte le pettegole Tutte le maldicenze Del villaggio Poi va pian piano a calare Secondo me È il finale Io non sono riuscita Ad apprezzarlo per niente Anche perché Non ho avuto Una grande empatia Con Il reverendo Dimsdale Che è l'altro Protagonista Della vicenda Non Non lo so Non l'ho considerato In modo assolutamente positivo Ma ne parliamo dopo Dicevo prima Che è un romanzo Di sentenza sociale Per una società Qualsiasi società È necessario Segnare Chi Ha Deviato Per chi è stato In prigione Uscire con Tatuaggi E questo era indice Per tanti anni fa Di ex Galeotti Oppure Per le società tribali Altri tipi di tatuaggi E cicatrici Che facevano vedere A tutta la comunità Qual era La posizione sociale Di quella persona Pagina 70 Othon Ci fa sapere Che La lettera scarlatta Serve a promuovere Il senso civico Ovviamente Per quegli anni Per il 700 Tempo in cui Ha ambientato Questo romanzo La figura Di Esther Pryn Vi dicevo È quella che mi ha colpito Di più Soprattutto perché Poteva scappare Le era stato Dato L'agio Di andare via E vivere una vita In un altro paese In un altro villaggio Ritornare nella sua patria Senza avere il peso Della sua Della sua A Stampata sul petto Ma lei ha deciso Di perseverare Per non tradire I suoi valori Per non tradire Il suo Essere Una persona forte Avere la propria dignità E non pentirsi Di ciò che aveva fatto Esther Pryn Come Socrate Che beve la cicuta Perché Non doveva In nessun modo Fare un passo indietro E quindi mi piaceva insomma Anche Evidenziare questo Parallelismo Far capire che Esther Pryn Non è Una vittima Che si autocondanna Ed è autolesionista Secondo me no Secondo me c'è Molto di più Perché a questo punto Tantissime altre figure Che hanno accettato Il proprio destino Potevano essere Definite quali Vittime E sottomesse In realtà no Secondo me Qui ci troviamo davanti A una figura Che dovrebbe essere Assolutamente rivalutata Per quanto riguarda Il reverendo Dimmesdale Ho sofferto con lui L'ho compatito Nel senso più Positivo del termine Compassio Quindi Patire le stesse Emozioni Pathos E questo Il senso che io do Alla compassione Non è un senso Di pietà Ti compatisco Perché ho pietà di te No Però Nonostante ciò L'ho visto come Una persona Debole Fragile Che non ha voluto Come Esther Far vedere I suoi mostri Alla società Ma l'ha Abbandonata E questa è una cosa Che io in generale Non riesco a sopportare E vi ripeto Nonostante lui Comunque avesse Mostri interni Che lo hanno Lacerato E condotto Poi ad una fine Terribile Quindi Sicuramente Un libro Che vi consiglio Che a me è piaciuto Con tante riserve Perché Alla fin fine La scrittura Di Hawthorne Si è interessante Ma secondo me Va a calare Cioè la trama La parte forte Quella iniziale Poi pian piano Va a scemare Questo però Un mio giudizio Assolutamente Personale Un giudizio soggettivo Che non deve minare La vostra La vostra esperienza Di lettura Spero di non dimenticare Nulla Ma veramente nulla Comunque Adesso passiamo Ai libri Che ho letto Proprio Nell'ultimo Nell'ultimissimo Periodo Il libro Che ho finito Qualche giorno fa È Mio fratello Di Afonso Reis Cabral Ve ne ho parlato Moltissimo Nelle storie Su Instagram Ve ne ho parlato Tanto anche Nei post E in qualche video fa Mi ha colpita Per via delle tematiche In effetti Affronta Un tipo di argomento Verso cui Io sono Sicuramente Reticente Non Mi sposto mai Su questi Ambienti Su questo tipo Di Di narrazioni Perché Non Non fanno parte Di me Ve lo dico Sinceramente Però Ho voluto In questo caso Provare Perché Non è il genere Che fa Una buona opera Ma è un Grande autore Un bravo autore Che riesce ad attirare A sé Molti lettori Quindi Ho deciso Di provare L'autore È Giovanissimo Veramente Giovane Non ha nemmeno Trent'anni E con questo esordio Narrativo Ha vinto Il premio Lei ha Cioè Il premio Più prestigioso Degli inediti Scritti in lingua Portoghese Nel 2014 Un libro che tratta Del rapporto Tra Miguel Un uomo di 40 anni Che soffre E affetto Dalla sindrome Di Down È suo fratello Colui che si prenderà cura Di quest'uomo Di cui noi Non sapremo mai Il nome È un'entità Un po' Nascosta Tratta sicuramente Della Della malattia E lo fa In modo Molto particolare Senza Edulcorazioni Il political Ecorrect È veramente Buttato Ai margini Della narrazione Quasi Non esiste Ed è una cosa Che ho apprezzato Molto Perché Molto spesso Si va a dare lezioni morali Sulla malattia Quando magari Non si è vissuto Nulla di simile Quindi ho imparato Ad apprezzare Questo tipo Di dinamiche Grazie Grazie a questo libro Che Vi ripeto Tratta La malattia Non dal punto di vista Del malato Che molto spesso Se è un tipo Di malattia del genere Non viene Percepita Tanto dal malato Quanto Da chi gli sta intorno Dalla famiglia Ed è una cosa Che dovrebbe essere Messa in evidenza Quando si ha una persona Che purtroppo Ha un disagio È nata con un disagio E bisogna accudirla Bisogna starci dietro Una famiglia Lo fa Con tanto affetto Con tanta passione Ma anche con tanto sacrificio E quindi Mettere in evidenza Anche La difficoltà Che sia Stare dietro Alla malattia È necessario Voglio mettervi a paragone Questo libro Con un altro Adesso Forse mi ammazzerete Però è per farvi capire Veramente Quello che intendo Espiazione Con mio fratello Come sappiamo Espiazione Già dal titolo Riusciamo a comprendere Che McEwan Aveva intenzione Di ricreare Un romanzo Che potesse Espiare Una colpa Anche in questo caso Abbiamo un romanzo Di confessione Nonostante Sia l'esito Che la volontà Dell'autore Parino totalmente Da un'altra parte Quindi non vi aspettate Nulla di ciò Che avete letto In espiazione Se lo avete fatto Però Ho trovato Una base Un sottofondo Liquido Su cui Questo romanzo Può essere Appoggiato In McEwan In McEwan Quello che accade Accade Per finzione Se mi avete capito Invece In mio fratello Accade Per riscatto Di vita Realmente Nel romanzo Si denota sicuramente Una grandissima padronanza Del linguaggio Secondo me La scrittura È molto personale E soprattutto Anche una padronanza Della struttura Perché è Assolutamente Diversa Dai soliti Abbiamo infatti Una parte Che è La narrazione canonica Spezzettata Tagliata E bloccata Da tante parti Scritte In un font Più piccolo Come in questo caso Si è riuscito a vedere Che sono Dei pensieri sparsi E più profondi Del narratore In questo caso Che corrisponde Al fratello Si vanno A inserire Tra un periodo E l'altro È un libro Che è sicuramente Un esperimento interessante Che me lo hanno fatto Apprezzare Per certi versi Ma d'altra parte Secondo me Ha dei nei Che non me lo hanno Fatto apprezzare Al cento per cento Innanzitutto È un libro Che è Veramente Molto lungo E secondo me Per il mio gusto Personale Poteva essere Un pochino Leggermente Ristretto Soprattutto perché Dà spazio Ad un personaggio Di Toyal Questa città In cui i due fratelli Si trasferiscono Questo personaggio Si chiama Quim Ed è un raga O Kim Credo Un ragazzo Uomo Diciamo Che loro conoscono Da tantissimo tempo Ma io avrei preferito Che mi si fosse approfondito Il rapporto Dei due fratelli Con le quattro sorelle Dopo la morte Dei genitori E invece Il rapporto Tra le sorelle Viene bypassato È edito Comunque Da nutrimenti edizioni Al prezzo Di 19 euro È un'ultima uscita E la trovate Penso già Online In tutte le librerie Passiamo ad un libro Che vira da tutt'altra parte Qua siamo veramente Su un emisfero Totalmente differente Finalmente Ci troviamo davanti Alla saggistica Un'analisi Molto Particolare E anche Devo dire Cruda Diversa Temi che io non affronto Molto spesso Su questi canali Parliamo di Ascia Nera La brutale intelligenza Della mafia nigeriana Scritto da Leonardo Palmisano Edito Fandango Nella collana Documenti È uscito da pochissimo Anche questo quindi È un'ultima uscita Della casa editrice E L'ho visto Presentato Al trame festival Vi ho fatto Anche diversi vlog Sul trame festival Perché per tanti anni Sono stata volontaria Per loro Quest'anno Tra una cosa e l'altra Non sono stata molto attiva Ma comunque Ero presente A moltissime Delle presentazioni Questa mi interessava Tanto E quindi Ho voluto Partecipare Come vi dicevo Mi sono trovata Ad affrontare Degli argomenti Che esulano Un pochino Dal mio mondo E nonostante Io abbia Letto diversi libri Sulla mafia Sulla criminalità Abbia avuto Tante esperienze Vivo in un territorio In cui L'andrangheta La fa da padrone Non avevo mai Approfondito In realtà Non avevo Contezza Di quella Che fosse Questa Nuova Mafia Cioè La mafia Nigeriana Il libro Si presenta Nel migliore Dei modi E' uno dei pregi Più importanti Secondo me Che fa alzare L'asticella Veramente alle stelle La scrittura Della scrittura Dell'autore Che è Semplice Veramente Diretta Una scrittura Che rende Il volume Godibile E comprensibile Che è una cosa Ragazzi Non scontata Perché se prendete Testi di questo tipo Analisi E ricerche Di questa caratura Vi trovate davanti Molto spesso A testi Incomprensibili Testi Vaghi Testi Che usano Un linguaggio Aulico Che Lo posso capire Stiamo parlando Comunque Di volumi Di una natura Diversa Se vi interessa L'argomento Quindi potete Buttarvici Perché non ne Resterete Assolutamente Delusi E inoltre Una caratteristica Fondamentale Che secondo me E' imprescindibile Quando si tratta Di questo tipo Di analisi E che non è presente In questo testo Alcuna faziosità Cioè L'oggettività Della ricerca E messa In primo piano E quindi Non vi troverete Davanti A condizioni Partitiche E prese di posizione In questo senso E trarrete poi Da voi Le conclusioni Quest'analisi Tratta Della mafia nigeriana Di come essa Si muove Dei legami E degli intrecci Che crea Con le altre Associazioni mafiose Ad esempio L'andrangheta La Sacra Corona Unita Grazie a dei capitoli Specifici Come per esempio Il capitolo Sulla tratta Il capitolo Sugli studenti Universitari Il capitolo Sui riti E ricordiamo Che anche Le nostre mafie Hanno i riti Ed è quindi Una sorta Di costante Analogia Tra le mafie Presenti Sul nostro territorio E questa nigeriana E questa nigeriana Che vi ripeto Nonostante sia diversa Nonostante sia Nata in un continente Profondamente Differente Dall'Italia Di oggi Ha comunque Delle connessioni Con le nostre Attività criminali Che stiamo riuscendo A scoprire Negli ultimi anni Questi argomenti Sono tutti Costantemente Foraggiati Dai dialoghi Dalla trascrizione Di chat Dalla trascrizione Di email Messaggi E conversazioni Ma veramente Tante Ha avuto Palmisano Moltissime Moltissimi colloqui Che è riuscito Ad interpretare Molto bene Creando Un kaleidoscopio Di informazioni Che dà forma A tutto Questo fenomeno Che è per l'appunto Ascia nera Questa associazione Mafiosa Basata sul Neo black movement Capitanata Da un Padre spirituale Quasi Il quale Investe Tantissimo Denaro Per dare Lavoro Ai giovani Nigeriani Ma anche In generale In tutta L'Africa Che tipo Di lavoro Ovviamente Un lavoro Sporco Un lavoro Di criminali Ecco Ma che D'altro lato Porta L'alternativa Perché viene Visto in modo Positivo E non viene Assolutamente Riconosciuta Questa Come mafia Né in Nigeria Né in Africa L'analisi Dell'autore Porta a scoprire Da un lato Sicuramente La natura Di questo Di questo Movimento Criminale Con le sue Regole I suoi riti Gli scambi Monetari Gli intrallazzi E d'altro Lato Il modo In cui Fa questi Soldi E quindi Il commercio Dei migranti Lo sfruttamento Della prostituzione La vendita Di droghe Pesanti E lo scambio Di armi Anche da qui Riusciamo a comprendere L'assonanza Che esiste Che l'autore Ha trovato Tra questa Mafia Ascia nera E quelle che conosciamo Noi Le mafie Territoriali Che sono comunque Predisposte in modo Capillare Purtroppo Su tutto il globo È un volume Che quindi Vi consiglio Sicuramente Soprattutto Vi dicevo Per la semplicità In cui è scritto E l'accessibilità Quindi se vi interessano Questi tipi di argomenti Se volete approfondire Questi fenomeni Andate Sul sicuro I prossimi due libri Che vi faccio vedere Di cui però Non vi parlerò Perché mi sono fusa Il cervello Sono Fosca E Coraline Perché non ve ne parlo Perché ho già registrato Due recensioni singole Per questi libri Quello di Fosca È già uscito E ve lo lascio sia giù Nell'info box Che su nelle schede Quello di Coraline Se non è uscito Questo sabato Quindi due Tre giorni fa Uscirà il sabato prossimo E anche in questo caso Una volta caricato Vi lascerò Il link su nelle schede Giù nell'info box Quindi comunque Se non è stato Già caricato sul canale Avete lo spoiler Per la puntata Di A Gothic Tale Di questa settimana Queste erano Le letture Che ho fatto Negli ultimi due mesi Spero Possiate trovare Qualcosa che vi interessa Tra queste Spero che le mie recensioni Vi siano D'aiuto In un qualche modo O che Semplicemente Vi abbia tenuto compagnia Vi ricordo di trovarmi Su Instagram Facebook E Goodreads E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao